Verso nuovi mondi dell'abitare, è il claim che accompagna l'edizione 2017 di Expo Casa, ma anche l'idea alla base dell'incontro dal titolo Riabitare 2.0, organizzato martedì 7 marzo dai collegi dei geometri e geometri laureati delle province di Perugia e Terni e dalle loro tre commissioni congiunte, ambiente edilizia sostenibile e nuove tecnologie. Riabitare è inteso come ristrutturazione, ma anche come ricostruzione post-sismica, dalla ristrutturazione al recupero del patrimonio edilizio abitativo, quindi l'orizzonte in cui si è spaziato per analizzare nello specifico la tematica della gestione dei reflui. L'approfondimento è valso anche come momento di formazione professionale e si è inserito nell'ambito della partecipazione della categoria al Salone Nazionale dell'edilizia e dell'arredamento di Bastia Umbra. I due collegi hanno a disposizione fino a domenica 12 marzo uno stand per far conoscere la professione ai visitatori con l'intenzione di raggiungere soprattutto i giovani che devono scegliere il loro percorso scolastico superiore. Presenti all'incontro i presidenti dei collegi di Perugia e Terni, Enzo Tonzani e Alberto Di Omedi, con loro molti colleghi, tra cui i relatori Fabrizio Gelosi, referente della Commissione Agricoltura e Ambiente e fedeli in orise della Commissione Edilizia Sostenibile che hanno approfondito gli argomenti in discussione, compreso una panoramica sul quadro normativo di riferimento. La nostra Commissione sta lavorando in questo senso, cercando di prestare ai nostri colleghi quelli che sono i nostri approfondimenti nel tema della sostenibilità. È un tema abbastanza nuovo anche per il collegio, quindi ci troviamo oltre che a rispondere ai quesiti di nostri colleghi anche a approfondire tematiche inerenti alla sostenibilità. Quindi nuovo modo, nuove tecnologie per abitare, sostenibili, quindi compatibili, che vadano incontro a quelle che sono le esigenze poi del pianeta. Sfruttare meno, sfruttare meglio, questo è un po' il nostro slogan. Quindi materiali biocompatibili, possibilmente, e quindi efficientamento, efficientamento, meno inquinamento e meno spreco di energia. Questo è il nostro motto e questo è il lavoro della nostra Commissione. Questo seminario è stato organizzato proprio in collaborazione da tre commissioni che abbiamo all'interno del nostro Consiglio Direttivo. L'argomento principale è il trattamento delle acque reflue dei fabbricati di civile abitazioni o fabbricati ad uso industriale e artigianale, quindi anche trattamento acqua e prima pioggia. In particolare, come affronterete questa tematica e nello specifico di cosa si parla? Nello specifico abbiamo un tutor che illustrerà a tutti i colleghi intervenuti le varie possibilità per poter trattare i reflui provenienti dalla civile abitazione o reflui provenienti da attività artigianali, soprattutto sono riferiti a quei fabbricati che sono lontani dal collettore pubblico e quindi verranno illustrate le varie metodologie grazie a una collaborazione con un'azienda del territorio. Nei prossimi parleremo di materiali innovativi, di nuove tecnologie, di nuovi materiali da costruzione. Noi viviamo in cantiere, viviamo di cantiere, quindi questo per noi è un luogo naturale oltretutto in questa occasione in cui vengono proposti materiali innovativi sostenibili ambientalmente e innovativi sotto il profilo proprio tecnologico per cui i geometri non possono non esserci in queste occasioni che hanno il dovere e diritto di sponsorizzare e promuovere materiali sostenibili per l'ambiente. È un modo intanto per formarsi, l'innovazione a noi ci riguarda per cui è dovere essere informati sulle nuove proposte commerciali che vengono di volta in volta nel mercato in un periodo poi oltretutto che è molto prolifico di proposte innovative sotto il profilo anche del consumo energetico, del risparmio del territorio, l'uso del suolo la filiera corta nei trasporti e nelle costruzioni, la sostenibilità ambientale non possiamo tirarci indietro di fronte a queste sfide. Quello ExpoCase è stato il primo di un ciclo di incontri dedicato alla ristrutturazione che affronterà anche tematiche legate a materiali innovativi, ecologici, da costruzione e acustica. Grazie. 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 Grazie.